Innanzitutto voglio ringraziare Maristella per il biglio della dedizione che ha dato a questo consiglio il garbo soprattutto che ha portato a noi tutti e quindi la ringraziamo per questo. Naturalmente facciamo in bocca al lupo per questa splendida avventura perché penso che la maternità sia la avventura più belle che la gente ci possa dare quindi a lei veramente un abbraccio forte e un in bocca al lupo per la maternità che l'aspetta e quindi che le dia tante soddisfazioni. Detto questo chiediamo una volta che lei per motivi personali si è dimessa così come ha spiegato anche il Presidente del Consiglio, il primo degli eletti dopo Maristella Bonora è Bruno Bufano, è presente solo virtualmente ma di fatto presente e quindi lo accogliamo. Allora è lui diciamo di fatto che dopo Maristella si trova a essere eletto quindi proponiamo a questo punto con la votazione prossima l'entrata di Bruno Bufano quale Consiglio Comunale della lista Agropoli Oltre. Bruno Bufano entra a far parte del Consiglio Comunale della città di Agropoli. La sorroga è avvenuta durante la seduta dell'ultimo Consiglio Comunale che si è tenuto lo scorso 23 febbraio. Bruno Bufano ottenne 168 voti alle amministrative del 2017 nella lista Agropoli Oltre. La nomina è avvenuta in seguito alle dimissioni della consigliera Maristella Bonora che ha scelto di lasciare l'incarico perché è in stato interessante. Ringrazio il Sindaco, il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri. Mi accorderò a questi ultimi mettendo a disposizione al servizio dell'amministrazione le mie esperienze maturate nel tempo. Non fatti di grandi scuole ma di tanto lavoro. Tanto il mio contributo personale al servizio agropolesi. Va bene, grazie consigliere. Naturalmente accogliamo nella maniera migliore l'arrivo del consigliere Bufano. Anche a te, naturalmente, un fortissimo in bocca all'uomo per il lavoro e per l'impegno che profonderai in questo Consiglio e per la nostra comunità. E ti auguro veramente che questa sia per te una bella avventura. Grazie.